Oggi si vola a Darwin, ovvero si vola nella parte nord australiana. Giusto Claudio? Fammi sì con la testa che mi dice sì, voi non lo vedete ma io lo vedo nel frattempo. Comunque oggi andiamo a Darwin a scoprire la storia di Claudio che viene dalle parti di Ferrara e oggi ha 53 anni ma quando è arrivato qui in Australia di anni ne aveva 41. Eccolo qua, ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ah spettacolo, spettacolo. La tua voce è tipicamente di Ferrara, quindi romagnola. Beh sì, diciamo che proprio il paese nativo mio è Cento che è in provincia di Ferrara, famoso per il carnevale. E' vero. Io vengo da lì, Cento rimane tra le tre città della pianura quindi Ferrara, Modena e Bologna e quindi quello è il mio paese di origine. Oh spettacolo, spettacolo. Abbiamo detto, tu abiti a Darwin. Sì, noi sono qui a Darwin che è chiamato anche il top end perché è la fine della top, quindi dopo Darwin non c'è più Australia e quindi c'è solo mare che divide con comunque la parte asiatica che c'è da queste parti e quindi per quello che è anche il top end ed è proprio il nord dell'Australia che diversamente dall'Italia, ovviamente siamo in opposto e quindi la parte nord è meno abitata rispetto alla parte sud dove sei tu in questo momento a Sydney. E rispetto diciamo a quella che era il clima italiano fino a qualche anno fa perché poi adesso si sta stravolgendo tutto il nord è la parte dove fa più caldo qui in Australia. Esattamente, è la zona tropicale dell'Australia quindi siamo proprio sulla zona tropicale dove ci sono palme ci sono ovviamente coccodrilli perché i coccodrilli vivono nelle zone calde la temperatura in questo momento è estrema perché è il momento più caldo e umido dell'anno e quindi abbiamo una temperatura minima di 24 gradi e una massima di 25. quindi praticamente non abbiamo escursione termica parlo proprio di Darwin che siamo qua sul mare le zone un po' sull'intera cambiano un pochino quindi di notte si abbassa un po' la temperatura ma di giorno a volte arriva anche a 39-40 gradi. Scusa, hai detto la minima 24, la massima? 35. Ah, ho capito 25, quindi stavo dicendo ma cosa cambia in grado? No, quindi 35 di massima però c'è un'umidità molto alta. giusto? Esatto, l'umidità raggiunge anche il 90% e questo vuol dire che praticamente appena tu provi di respirare hai già la sudorazione che si attiva e quindi si è sempre bagnati continuamente ovviamente la gente prova di vivere negli ambienti dove c'è area condizionata quindi all'interno delle strutture, all'interno dei centri commerciali e lì arrivi tu e lì arrivo io e lì arrivo io con la mia esperienza di area condizionata già dall'Italia e quindi arrivo e accontento chi posso che spettacolo quindi tu praticamente arrivi lì signora ma lo sa che fa caldo quindi ha bisogno di un'area condizionata dell'area condizionata in casa quindi chiama Claudio esatto esatto c'era una serie tv chiamata Breaking Bad non so se l'hai mai vista del professore universitario che si metteva a fabbricare droga comunque c'era dentro questa serie tv visiva c'era questo avvocato di nome Soul e poi avevano fatto uno spin off e questo spin off denominato Better Call Soul quindi è meglio che chiamate Soul e quindi lui faceva proprio la pubblicità di tutti quelli che avevano dei problemi legali quindi è Better Call Soul quindi tu potresti fare la stessa pubblicità è meglio che chiami Claudio è una buona idea adesso magari penso perché voglio cominciare a fare un po' di pubblicità hai capito quindi molto probabilmente nel 2020 ormai si pensa solo a tornare in Italia per Natale questo è l'obiettivo che abbiamo io e le mie famiglie in testa in questo momento e quindi abbiamo la meta del 25 dicembre di essere coi piedi sotto la tavola a 100 riassaporare i nostri tortellini, lasagne e tutte le prelibatezze della zona e capito? dopo quando... e riassaporare anche un po' di fresco voglio dire beh sì, diciamo freddo per noi perché dopo 12 anni che sono qui abituato a una minima annuale che non va mai il di sotto dei 17 gradi diciamo che è difficile ritornare quando in Italia ci sono i 5-6 gradi o addirittura sotto zero in certi momenti sia proprio un freddo bestiale cioè non ti va via il freddo dalle ossa per giorni e giorni senti, da quanto tempo non rientrati in Italia? beh, che non rientriamo in Italia io è un anno, la mia famiglia due anni però nell'estate che non facciamo un Natale in Italia sono sei anni quindi è già un po' e questo è... abbiamo proprio voluto ritornare per il Natale perché l'atmosfera del Natale possibilità di poi andare in giro con la neve le problematiche che ci saranno è un po' così avete famiglia cioè adesso qui sei tu tua moglie e i tuoi figli, giusto? esatto io ho la moglie e tre figli che tutti e tre studiano a Sydney e poi in questo viaggio uno dei figli rimarrà in Italia a Milano a studiare e quindi avremo dovremo andare a Milano a vedere un po' come fare con l'accommodation e quelle cose tutte le mani esatto e quindi uno rimane gli altri tornano e poi si ritorna diciamo alla vita normale più o meno dal 15-20 gennaio partiamo in tempi diversi quindi più o meno sì che poi dico in Italia immagino che vi aspetti la famiglia inteso come dire fratelli, sorelle immagino tu e tua moglie e altri i relatives sì certamente ci stanno aspettando a braccia aperte anche perché ti dico io quando sono venuto qui 12 anni fa da quel momento non abbiamo quasi mai comperato abbigliamento invernale quindi i figli hanno qualcosa perché a Sydney viene un po' freddo ma non è quel freddo che viene sopra i colli di Bologna hai capito e quindi ho la mia famiglia in Italia che mi stanno mi stanno chiedendo le misure scarpe giacche per sapere cosa possono avere di utile perché comunque rimaniamo 20 giorni quindi non è che dobbiamo comprare tutto nuovo capito no però quanti anni hanno i tuoi figli ho un figlio che ha 22 anni e due figli di 19 ah ok quindi diciamo sei anni fa quando siete partiti uno ne aveva 16 e l'altro ne aveva 13 gli altri due ah quando siamo tornati l'ultima volta in Italia sì quando siete tornati l'ultima volta in Italia si scusa esatto tutte le misure sono cambiate i piedi si sono allungati come anche il busto i ghebito e quindi tutto è cambiato ma mi immagino sei anni sei anni passare il Natale a casa con tutti i familiari sarà un'emozione incredibile dopo sei anni sì sì infatti proprio anche i miei figli sono emozionati del ritornare d'avere quella quella tradizione così forte che per quanto uno rimanga via tanto tempo dall'Italia non non può dimenticare non non gli passa assolutamente quindi il fatto di ritornare in questo momento così anche importante dell'anno e di famiglia di riunioni di famiglia è molto importante anche per noi perché comunque oltre a ritrovare la nostra famiglia si ritrovano amici conoscenti ex vicini di casa hai capito e quindi è tutto un ritrovare quella quella parte di mondo lasciata hai capito quando si va via infatti parlavo l'altro giorno con un ragazzo che lui mi diceva Claudio perché ascolti queste canzoni vecchie ho detto non sono le canzoni vecchie sono le mie canzoni la fama sì sono canzoni di 15-20 anni fa ed effettivamente questa è una cosa che succede in modo ovviamente lo conosci anche tu che sei a Sydney quando uno si sposta rimane l'Italia si ferma in quel momento in cui uno è venuto via e quindi ad esempio la musica le televisioni in televisione le trasmissioni i presentatori i cantanti rimangono con quella faccia e con quell'età quando poi si rientra dopo 5-6 anni dici guarda come è diventato vecchio lì guarda perché tu non hai visto il passare del vieto del tempo e ti sei fermato in quella cosa lì non l'avevo mai letta così ma hai perfettamente ragione perché mi è capitato proprio sono stato in Italia a settembre e insomma mancavo dall'Italia da un anno e otto mesi se non sbaglio e c'erano i miei amici che mi dicevano ma non conosci sta canzone non conosci questo cantante non conosci tutta gente è venuta fuori negli ultimi due anni e io non avevo minimamente idea di chi tutta gente qua e mi sentivo veramente come come se fossi come dire di un altro pianeta però c'hai ragione perché poi qua smetti di ascoltare Radio Italiana e quindi smetti di avere in testa i fatti che avvengono in Italia e cavolo c'era quindi l'Italia musicalmente e anche a livello di spettacolo si ferma a quando tu eri venuto via bravo mi hai dato una lettura mi mancava questo senti tu sei arrivato qua 12 anni fa di anni ne avevi 41 vivevi a Ferrara che facevi là? a Cento di Ferrara facevo lavoravo per un'azienda per riscaldamento e condizionamento e quindi avevamo questa aziendina per aggiustare e installare le caldaie nelle abitazioni in più avevamo già centri commerciali aziende comuni da mantenere e quindi avevamo questa cosa qui già dal 93 poi avevo già iniziato a fare condizionamento quindi avevo già l'esperienza l'esperienza anche lì di 8-9 anni e quindi quando ho lasciato l'Italia probabilmente ho lasciato l'azienda magari con la speranza di ritornare poi a lavorare perché inizialmente il progetto non era di rimanere tanti anni in Australia era solo per 4 anni che era stata la proposta che c'era stata fatta e quindi poi l'idea era di ritornare al punto che il mio titolare mi ha anche aspettato perché aveva voglia di andare in pensione aveva già un po' di anni e a un certo punto poi mi ha detto allora Claudio cosa fai? ho detto guarda dopo 4 anni del progetto mi sono passati 6 dico facciamo una cosa te fai i tuoi passi io faccio i miei questa è stata un po' la cosa legata all'azienda per cui lavoravo a Cinto eh sì cavolo ma siete venuti qua per come si dice per un'offerta di lavoro per lavorare per cambiare vita avete preso lo vostro zaino e siete venuti beh sì non è stato tanto backpackers anche perché con 3 figli uno che aveva 10 anni e due di 6 i due sono maschi e femmina gemelli e non è stato così facile prendere la decisione allora diciamo che l'azienda per cui lavorava la moglie ci ha fatto questa offerta di venire in Australia e a Darwin per aprire un nuovo ufficio di una nuova di questa azienda e ci ha offerto questa possibilità per un con un visto di lavoro di 4 anni ok abbiamo un po' valutato e abbiamo detto vabbè 4 anni i figli sono piccoli li riusciamo a spostare proviamo di andare così intanto imparano l'inglese fanno 4 anni di scuola in Australia ci vediamo un continente diverso nuovo poi sai comincia a fare ricerche vedi tutto quello che c'è succede qui in questa zona è inghibito e quindi siamo stati molto entusiasti di partire e quindi le 7 siamo siamo partiti e non è che abbiamo preso lo zaino abbiamo proprio preparato un container con tutte le cose perché comunque i figli erano piccoli quindi le cose loro abbiamo preso un sacco anche di materiale italiano per continuare comunque a insegnargli l'italiano oltre che a parlare che io gli parlo sempre e solo in italiano anche a livello didattico qualche libro i film e ripeto così e quindi abbiamo fatto un container con la nostra roba poi noi siamo arrivati il container è arrivato un mese dopo ma poi abbiamo iniziato diciamo la nostra vita qua con l'idea che dopo quattro anni saremo tornati e cos'è cambiato nel frattempo ne sono passati dodici beh è cambiato tanto di cose ne sono cambiate tante allora praticamente arrivata la scadenza dei quattro anni l'azienda ci aveva chiesto ci aveva imposto di ritornare ovviamente e quindi noi avevamo già preparato la nostra permanent resident avevamo già avuto l'accettazione della permanent resident per avere la possibilità di essere cittadini permanenti in Italia in Australia e quindi dopo un sacco di documentazioni visite mediche soldi anche perché è un investimento anche di denaro eravamo stati accettati per questa permanent resident e quindi da lì a diventare cittadini ci vuole un ulteriore anno dobbiamo fare cinque anni in Australia viverci e quindi abbiamo detto perché non arrivare a questa meta soprattutto per un futuro dei figli che avere la cittadinanza australiana vuole dire comunque avere una doppia possibilità di vita e di lavoro che può essere o in Italia e Europa o in Australia oceania e quindi abbiamo abbiamo optato di venire qui ovviamente la moglie che lavorava per questa azienda ha dovuto lasciare il lavoro per questa azienda per l'azienda ha detto o torni o non lavori più con noi e quindi o torni in Italia esatto o torni in Italia o l'azienda qui chiude cioè non ha chiuso ma comunque non l'hanno più voluto ovviamente gli hanno dato o sì o no ok lei avendo detto no dopo siamo rimasti ha trovato poi un altro lavoro qui come manager e quindi è rimasta più o meno nel settore dove era io poi nel periodo iniziale non sapendo una parola di inglese quando sono partito dall'Italia perché non mi serviva per aggiustare le caldaie nella zona di cento più dialetto che l'inglese nella zona mia ho fatto comunque un anno e mezzo di studio dell'inglese all'università locale qui nell'università che c'è a Darwin e quindi i miei figli andavano in una scuola speciale per l'insegnamento dell'inglese ai bambini io andavo in questo corso speciale per l'insegnamento degli adulti e dopo un anno e mezzo ho deciso alla sera o alla sera andavi no 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 durante il giorno tutto durante il giorno esatto sono proprio corsi che fanno per gli adulti che hanno che vengono da un altro che non sanno la lingua inglese e quindi c'è qualcosa che va quasi di pari passo dove i bambini iniziano alle otto la scuola il corso per adulti inizia alle otto e mezza proprio per dare la possibilità agli adulti di accompagnare i bambini a scuola per gli adulti finisce all'una e mezza il corso e alle due si va a prendere i bambini da scuola e quindi è creata per per le famiglie genitori o un genitore che era il mio caso che deve imparare l'inglese ho fatto un anno e mezzo che a parte studiare l'inglese stavo dietro alla famiglia si portavano i bimbi a scuola si andavano a prendere si andava al parco la spesa un po' queste cose qua come è stato economicamente mandare tre figli a scuola beh tre figli a scuola economicamente penso che in tutto il mondo sia sia un passo importante l'Italia sì beh diciamo che qui ci sono sì ha un costo anche qua perché comunque ha un costo annuale che devi affrontare però è leggermente meno non tanto ma leggermente meno però credo che dipenda dal visto che tu hai sì beh indubbiamente il visto se hai un visto come il nostro che era un visto di lavoro l'azienda tutte le aziende che hanno dei visti di lavoro comunque devono dare questa possibilità a chi è di avere le diciamo le agevolazioni che ci sono nel Australia e quindi è l'azienda stessa che si fa diciamo peso di questo importo maggiore invece chi viene con un visto diverso che può essere un visto tipito o turistico o working holiday deve comunque o student chi viene come student deve pagare molto ci sono dei corsi che costano 15-16 mila dollari all'anno sono soldi importanti che molta gente investe sapendo che poi se riesce poi a avere lavoro ha un rientro economico se ti può quando avete deciso di continuare l'avete detto vabbè continuiamo perché come si dice immagino la vostra vita ormai aveva preso un corso in Australia e per dare un futuro diciamo un'opportunità in più ai vostri figli ma vi siete dati una nuova scadenza cioè pensate un giorno di rientrare in Italia o ormai è difficile rientrare beh diciamo che la scadenza non ce la siamo data perché comunque nel momento che abbiamo detto rimaniamo qui poi dopo si è innescato un po' un meccanismo che io da dipendente che poi ho iniziato a essere in un'azienda di aria condizionata dopo 5-6 anni ho deciso di mettermi in proprio e quindi sai cominci a fare investimenti e compri i mezzo di trasporto attrezzatura e ripeto così ti fai conoscere quindi si fa un po' più fatica i figli crescono quando i figli crescono si legono di più con amici hai capito a posto in cui sono i miei figli fanno più fatica adesso a parlare l'italiano che l'inglese ovviamente perché quelle scuole importanti le hanno fatte tutte qua hai capito e quindi si sentono anche un po' in difficoltà quando devono parlare in italiano o leggere in italiano e quindi sai ti trovi passo dopo passo giorno dopo giorno che ti senti sempre un po' più lontano da quella data che magari uno dice poi tornerò hai capito però ce l'hai sempre lì è latente hai capito c'è la voglia di ritornare anche perché comunque qua quando sei qua mi dicono dove vieni dall'Italia fantastico ma perché sei qui hai capito perché comunque dall'Australia molti vorrebbero andare in Italia vabbè tutti hanno la visione dei colli della Toscana hai capito da andare e quelle cose lì però comunque l'Italia ha un sacco di cose positive bellissime qui l'Australia è molto più semplice la vita è semplice è facile e la vita di tutti i giorni io lo dico sempre è quella che ti fa rimanere perché è la vita di tutti i giorni la quotidianità semplice che ti fa stare meglio con meno stress cosa intendi per semplice per semplice vabbè intanto dove vivo io perché Sydney è già una città è già un diciamo molto più simile alle città italiane ma dove vivo io vuol dire in ogni posto della città di Darwin in un quarto d'ora ci arrivi quando arrivi al semaforo quando ci sono cinque macchine sei sfortunato hai capito di solo due o nessuno hai capito se giri di notte sei ti sembra the day after ci sei solo te hai capito e quindi diciamo Darwin è una città proprio piccolina dove non hai il problema del traffico non hai il problema dell'inquinamento perché comunque non essendoci grandi industrie e non essendoci molto traffico non c'è è sempre ventilato perché è sul mare e anche i servizi sono buoni quindi è il clima che ti devi abituare è il clima che ti devi abituare è come essere nel mese di luglio tutto l'anno i coccodrilli si vedono quotidianamente o devi proprio andare a cercare? beh diciamo che non è che vivono in mezzo alla città bisogna andare a cercare ma diciamo neanche più di tanto visto che comunque Darwin essendo una città piccola e ha tantissime spiagge naturali dove non c'è niente c'è proprio sono vogliono tenerle incontaminate praticamente a volte si vedono nei fiumi che arrivano a mare si vedono lì che prendono un sole perché comunque è di sole tanto e quindi li vedi nella sponda che li fermi immobile hai capito e si vedono hai capito quindi non è che è lontano basta andare dove c'è un fiumiciatolo è il loro abito naturale mamma mia senti sul finire due parole su un'altra cosa molto importante per gli italiani perché tu sei stato per tanti anni il presidente del club Italia giusto? sì esatto sei stato dico perché l'altro giorno da poco non lo sei più sì 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 nell'ultimo nell'ultima volta che abbiamo fatto le elezioni mi hanno declassato vice presidente ok in armonia in armonia in armonia ovviamente in armonia sì e cos'è questo club Italia? beh l'Italian club di Darwin è nato negli anni 75 80 da gli italiani che comunque sono arrivati qua tra dopo la prima guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale e quindi sono hanno creato questo club dove si trovavano comunque tutti i fini di settimana era aperto tutti i giorni dove la gente finiva di lavorare si veniva a bere la birra e magari si faceva un panino col prosciutto hai capito e poi negli anni la gente è sempre più si è sempre più accasata hai capito o hanno sempre avuto più impegni comunque hai capito quindi meno tempo per frequentare il club e quindi era stato chiuso per un periodo di 5 anni quando io ero già qua nel 2014 è stato riaperto e quindi è già 5 anni che noi facciamo eventi italiani e non riusciamo ad affittarlo a altre associazioni e questo è quello che comunque ci dà la possibilità di tenerlo aperto perché è un costo veramente alto di assicurazioni di manutenzione di corrente elettrica acqua e tutto il resto e quindi affittandolo a altre associazioni che fanno le loro feste le loro ricorrenze riusciamo a coprire le spese per il mantenimento e per gli italiani riusciamo a fare le feste diciamo quelle più classiche quindi la prossima festa che si farà sarà quella del pranzo di Pasqua è l'ultimo dell'anno quindi qui ci sarà una festa che sarà fatta l'ultimo dell'anno con più o meno 300 persone dove ci sono dei diciamo dei cabarettisti che arrivano da Melbourne che si chiamano Sushi Mango e faranno lo spettacolo qui da noi creando l'atmosfera ovviamente festiva e gioiosa per abbracciare il nuovo anno come meglio si può quindi praticamente anche qui dopo metterò nelle note il link di questo Italian Club quindi la prossima festa italiana diciamo è Capodanno esatto la festa importante è Capodanno dove si sarà una chiusura massima di 300 persone per il fatto che ne può tenere di più il club vogliamo dare la possibilità alla gente di non essere in un formicaio ma di vivere la serata come si deve quindi di ballare di fare il trenino hai capito le cose che si fanno nell'ultimo dell'anno e quindi questo è il prossimo evento che avremo qui importante sì spettacolo senti Claudio è stato un super piacere averti averti qua come ospite è stato un super piacere anche perché la tua il tuo accento il tuo italiano è di quelli che come dire che strappa un sorriso perché con l'accento romagnolo lì è sempre ben voluto come dire ma guarda tutti anche dopo 12 anni che sono qua anche quando parlo in inglese mi beccono sempre addirittura c'è quelli che hanno che conoscono l'Italia sanno esattamente anche dalla zona in cui vengo parlando in inglese riescono a beccare il mio il mio accento è che vito nell'inglese e quindi ma spero che mi rimanga perché nel mio cuore c'è l'Italia ed è quello che trasmetto che spettacolo senti è stato un super piacere e ci risentiamo e che ne so ci rivedremo se vieni tu a Sydney o se verrò io un giorno a Darwin perché ancora quelle zone non le ho visitate insomma e guarda se vieni ti faccio vedere il cocodrillo da vicino dai facciamo così non troppo da vicino va bene va bene super piacere e buona giornata a tutti insomma è stata è stata un'altra siamo andati anche siamo andati anche lunghi oggi con 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 l'intervista siamo andati oltre i 30 minuti perché è stata una come dire una storia molto interessante è stato interessante sentire un altro punto di vista ovvero quello di Claudio che non ha cambiato la sua vita perché era stanco perché non ne poteva più dell'Italia perché non aveva lavoro o altro ma ha cambiato la sua vita per cogliere un'opportunità non più in un'età che in cui la gente cambia ovvero perché a 40 anni uno già a 30 tante volte si dice no sono troppo vecchio per cambiare figurati a 40 e invece lui l'ha fatto l'ha fatto con la famiglia l'ha fatto con la moglie l'ha fatto con i figli l'ha fatto diciamo in una maniera se vogliamo dire più come dire non è arrivato qua e si è ricostruito da zero avevano un'offerta di lavoro avevano un lavoro però insomma spostare una famiglia dall'Italia a Darwin non credo che sia stata la cosa più semplice del mondo anzi per cui benvengano le storie come quella di Claudio e benvengano anche le storie come quelle dell'Italian Club è stato un piacere io vi ringrazio a tutti quelli che hanno seguito la Wine or Cafe Italiana in Australia in diretta saluto anche tutti quelli che lo faranno sul canale YouTube o via podcast noi ci vediamo domani per una portata tutta italiana perché le protagoniste saranno sarà con te all'estero lo psicologo online ciao 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 ciao